Si chiama Operazione Camerina Drags e ha portato all'arresto di 14 soggetti accusati di traffico di sostanze stupefacenti tra gli arrestati 7 italiani diversi e extracomunitari tunesini Portellate per un debito di appena 30 euro accadute a Vittoria dove padre e figlio rispettivamente di 45 e 22 anni sono stati feriti con un'arma da taglio, individuate e denunciate il feritore La Guardia di Finanza al Comando Provinciale sequestra oltre 40.000 articoli pericolosi tra giocattolo e materiale elettrico per un valore complessivo di circa 55.000 euro i controlli proseguiranno Numeri in costante crescita per l'aeroporto di Comido rispetto allo scorso anno Toscalo-Casmenè ha registrato ben 43.000 passeggeri in più soddisfatti i vertici della società di gestione Via Libera, nuovo concorso nella scuola per 63.000 docenti a fine gennaio alla pubblicazione dei bandi che saranno 3 per grado scolastico Probabile anche l'abolizione della prova selettiva Benvenuto a un appuntamento con l'informazione su Eventi Sicilia Ampia pagina di cronaca dunque Come avete sentito dai titoli Cominciamo con l'operazione dei carabinieri denominata Camarina Drugs 14 arresti a tanti soggetti dediti al traffico e allo spaccio di droga operazione che è scattata all'alba di ieri senza contare anche 21 soggetti segnalati al prefetto I militari della compagnia carabinieri di Ragusa hanno dato esecuzione a Santa Croce Camerina Ragusa e Cirie in provincia di Torino a 13 misure di custodia cautelare di cui 7 in carcere e 6 agli arresti domiciliari emesse dal GIP del Tribunale di Ragusa Claudio Maggioni su richiesta del sostituto procuratore Valentina Botti Sono stati sequestrati complessivamente quasi 4 kg di droga principalmente hashish oltre che cocaina, ecstasi, anfetamina e marijuana Nello specifico gli arrestati sono 7 italiani e 6 stranieri di cui 5 di nazionalità tunisina e 1 albanese Si tratta di Alket Bezdili 24 anni albanese pregiudicato Giuseppe Iacono 23 anni Santa Crocese incensurato Leonardo Di Martino 24 anni Santa Crocese incensurato Hassan Zantour 31 anni Tunisino pregiudicato Salim Ammar 23 anni Tunisino incensurato Omar Karui 20 anni Tunisino già nota le forze dell'ordine Fers Genan 19 anni Tunisino incensurato Giuseppe Piazza 28 anni Santa Crocese pregiudicato Armando Sedda 22 anni Santa Crocese incensurato Davide Sedda 34 anni Santa Crocese incensurato Leandro Vitale 24 anni Ragusano incensurato Marcello Ruggeri 29 anni Ragusano incensurato Zied Amamu 21 anni Tunisino incensurato L'operazione denominata Camarina Drugs conclude un'attività investigativa iniziata a febbraio nel corso della quale sono state arrestate in flagranza altre 9 persone per detenzione a fine dispaccio senza contare i 21 soggetti segnalati al prefetto per detenzione ad uso personale e ai 25 denunciati a piede libero per detenzione e altri reati L'attività ha avuto origine da un grosso sequestro operato a Santa Croce dai carabinieri a fine gennaio durante le indagini emerse in maniera particolare la figura dell'albanese Bezdili che pur arrestato e sottoposto ai domiciliari aveva continuato a spacciare dalla porta di caso addirittura evadendo e andando in un bar di caucana a Santa Croce il giovane si vantava di non essere mai stato preso dai carabinieri che invece un paio di volte lo avevano arrestato l'uomo inoltre si vantava di essere il supermarket della droga o lo chef di Santa Croce per la sua capacità di rifornire ai clienti di qualsiasi sostanza ricercassero proprio nel bar frequentato dall'albanese tra l'altro nella notte tra il 28 e il 29 marzo scorso era scoppiata una lite fra l'uomo e altri spacciatori la discussione finì a coltellate con un ragazzo ferito all'addome si salvò e i carabinieri riuscirono ad arrestare l'autore del tentato omicidio il ventenne tunisino Omar Karui nel corso delle esecuzioni e delle perquisizioni inoltre uno dei soggetti perquisiti non destinatario di misura cautelare è sotto arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti si tratta di Walid Rami 31enne tunisino incensurato che aveva occultato in casa due ette e mezzo di Ashish ci sarebbe la richiesta di saldare un debito di 30 euro alla base dell'aggressione con tanto di accortellamento che si è verificati era vittoria vittime due vittoriesi padre e figlio di 45 e 22 anni già identificato e denunciato l'aggressore botte e coltellate per un debito di 30 euro vittime due vittoriesi di 45 e 22 anni padre e figlio secondo quanto riferito dai due ad aggredirli era stato un loro conoscente cui avevano chiesto il saldo di un debito di 30 euro l'uomo però non era dello stesso parere anziché sborsare il denaro ha reagito violentemente colpendo con calci, pugni, bastonate i due creditori il padre ha riportato una contusione cranica abrasione al volto e il distacco di un'unghia della mano il figlio una contusione cranica facciale e una ferita da arma da taglio al braccio sinistro sul posto gli uomini della polizia di stato commissariato di vittoria che per prima cosa hanno soccorso i feriti per poi far scattare le ricerche dell'aggressore si tratta di un 25enne del posto già con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio dopo gli accertamenti del caso è stato denunciato in stato di libertà la procura della repubblica presso il tribunale di Ragusa per lesioni personali aggravate dall'uso di arma da taglio i feriti hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 6 e 10 giorni ad avere la peggio il figlio che ha subito la coltellata ad accanto invece i carabinieri arrestano due pregiudicati accusati di evasione sottoposti infatti ai domiciliari perché arrestati lo scorso novembre i due non erano stati trovati in casa da qui l'aggravamento della pena prosegue a ritmi serrati l'attività di prevenzione e repressione dei reati nel territorio della giurisdizione della compagnia carabinieri di Vittoria nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal comando provinciale di Ragusa l'intenso lavoro in stretta collaborazione con la procura della repubblica presso il tribunale Ibleo ha consentito di arrestare in ottemperanza all'ordine di custodia cautelare in carcere due pregiudicati si tratta del 28enne Mario Procida e del 20enne Gaetano Velardita l'esecuzione finalizzata dall'applicazione della misura limitativa della libertà personale impone ai due la reclusione in carcere poiché ritenuti responsabili di evasione arrestati lo scorso novembre nel corso dell'operazione Predator che aveva permesso di sgominare un sodalizio criminale dedito alla commissione di furti ai danni di istituti scolastici e cantieri edili della provincia di Ragusa i due erano stati sottoposti ai arresti domiciliari tuttavia nel corso di controlli alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione carceraria i militari della stazione di Acate avevano riscontrato la violazione delle prescrizioni imposte proponendo l'aggravamento della misura la richiesta è stata dunque pienamente accolta con l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere al termine delle formalità di rito entrambi sono stati dunque ristretti nella casa circondariale di Ragusa a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica Francesco Riccio per i provvedimenti di competenza un minorenne che si era allontanato da casa appunto a braccetto è stato rintracciato dalla polizia ad allertare gli agenti ieri pomeriggi ai servizi sociali di Ragusa considerato che il giovane tra l'altro in passato aveva attentato il suicidio sono state subito attivate le ricerche anche attraverso le procedure di triangolazione del cellulare utilizzato dal minore in campo anche tutti gli uomini disponibili in quel momento lo sforzo profuso è stato ripagato nella nottata appena trascorsa quando il minore è stato rintracciato e era accompagnato a casa sequestrati presso un esercizio commerciale a Vittorio oltre 40.000 articoli pericolosi in campo la Guardia di Finanza che ha scoperto come la merce materiale elettrico e giocattoli fosse privo di marchio denunciato il titolare dell'esercizio i finanzieri del comando provinciale di Ragusa hanno sequestrato oltre 40.500 prodotti fra giocattoli e materiale elettrico non conformi ai requisiti disposti dalla comunità europea e del valore complessivo di circa 55.000 euro in particolare le fiamme gialle del nucleo di polizia tributaria di Ragusa al termine di accurati accertamenti in un esercizio commerciale di Vittoria hanno sequestrato oltre 37.100 confezioni di materiale elettrico e 3.401 giocattoli privi del marchio CE e delle indicazioni di provenienza nonché delle caratteristiche informative minime per i consumatori il materiale elettrico è stato sottoposto a sequestro penale e il titolare dell'esercizio commerciale è stato deferito alla locale procura della Repubblica per quanto riguarda i giocattoli gli stessi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e il proprietario in questo caso è stato segnalato alla Camera di Commercio di Ragusa e sarà soggetto alla sanzione pecuniaria che va da 1.500 a 10.000 euro l'operazione mira a prevenire e contrastare il fenomeno della contraffazione che danneggia il mercato sottraendo opportunità e lavoro alle imprese in regola e mette in pericolo la salute dei consumatori che spesso inconsapevolmente acquistano prodotti non a norma e quindi potenzialmente molto pericolosi e intanto continuo in quest'ora a far discutere l'ordinanza imposta da molti sindaci di vietare l'uso dei botti di fine anno a Vittoria intanto la notizia è stata accolta come dire con indifferenza tant'è che qualcuno i botti li ha perfino anticipati lo spettacolo dei fuochi e la loro potenza effimera non hanno certo bisogno di essere spiegati il capodanno e il ferragosto che sono le due grandi porte nel cerchio dell'anno brulicano sempre di questi fuochi e sembra oggi impensabile poterne fare a meno il problema è che molti fanno di questo spettacolo un uso improprio in certi casi scellerato i criminali che fabbricano botti senza licenza gli sprovveduti che li usano senza accortezza e gli stupidi che li lasciano all'uso dei ragazzini a poco sono serviti finora ripetuti appelli nel tempo per una diminuzione di questa pratica che, dicono gli esperti può causare anche danni irreversibili a persone e animali adesso c'è stata la sollevazione di alcune categorie associazioni di consumatori che hanno chiesto con forza il divieto di sparare a fine anno tentativo lodevole ma dopo quello che si è sentito tra virgolette ieri sera a Vittoria in via Milano con l'esplosione di potenti botti che hanno forse sentito anche a Comiso non c'è da stare ottimisti senza interventi insomma e controlli serrati sarebbe come pretendere di mettere un tappo sopra il cratere di un vulcano è giusto in ogni caso provarci a insistere affinché questa pratica cruenta che vorrebbe significare per qualcuno festa e gioia non continui a partorire sequestri repressioni sanzioni e in alcuni casi come si sa anche feriti più o meno gravi insomma una battaglia di civiltà contro gli istinti primordiali della cosiddetta era moderna Ci spostiamo a Comiso con numeri in costante crescita per l'aeroporto La Torre che rispetto allo scorso anno ha registrato ben 43.000 passeggeri in più soddisfatti ovviamente dalla Soaco Ben 43.000 passeggeri in più rispetto al 2014 per l'aeroporto di Comiso numeri quindi ancora in crescita per il più giovane aeroporto italiano che punta a raggiungere la quota di mezzo milione di passeggeri all'anno entro il 2016 per il più La Torre potrebbe essere un anno decisivo dovrà essere inserito nell'accordo di programma e servizio Stato-Enav per liberarsi definitivamente dai costi di assistenza al volo che da soli pesano per 4 milioni e mezzo di euro a biennio Abbiamo raggiunto risultati che all'apertura nessuno poteva immaginare dichiarano il presidente della Soaco Rosario Di Bernardo e l'amministratore delegato Enzo Taverniti e siamo andati anche oltre le aspettative del nostro stesso piano industriale tutto questo grazie al territorio che continua a credere molto in questa struttura Anche per il 2016 con i bandi per le nuove rotte che saranno realizzate grazie ai fondi Ex-Insicem e al comune di Ragusa l'apporto territoriale sarà dunque decisivo Il prossimo anno tra l'altro dovrebbero partire i lavori all'interno dell'aerostazione con lo spostamento dell'aria banchi al piano superiore per consentire l'ingresso di maggiori flussi di passeggeri Stiamo lavorando al progetto esecutivo hanno detto di Bernardo e Taverniti che sarà inviato ad Enac per la definitiva approvazione La Sicilia non può pagare da solo il prezzo dell'accordo aero-mediterraneo sull'olio d'oliva con la Tunisia a fermarlo il parlamentare regionale del PD Nello Di Pasquale primo firmatario di una mozione presentata all'Assemblea regionale che impegna il governo regionale a intervenire presso il governo nazionale affinché a Bruxelles dice Di Pasquale riveda la soluzione rivolta a favorire l'export di circa 35.000 tonnellate di olio d'oliva dalla Tunisia verso l'Europa affinché come misura temporanea fino anche se come misura temporanea fino al 2017 adesso rimarca Di Pasquale bisogna evitare invece che l'agricoltura siciliana possa essere messa in ginocchio da questo ennesimo accordo intanto l'annata vitivinicola siciliana si chiude con importanti novità la prima che è quella annunciata l'assessore regionale Antonello Cracolici ossia in Sicilia dice Cracolici ci saranno 1.600 ettari di nuovi vigneti e con risorse per maggiori investimenti nel settore il 2015 può definirsi in Sicilia a ragion veduta l'anno del vino e si chiude tra l'altro con importanti novità che riguardano proprio il comparto vitivinicolo e a dire dell'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici stanno infatti per essere assegnati nuovi diritti di impianto per circa 1.600 ettari di vigneti verranno distribuiti prioritariamente nelle aree d'occhi più significative del territorio regionale nonché nelle isole minori a più alta vocazione vitivinicola nel bando col quale verranno assegnati questi diritti sottolinea lo stesso Cracolici sono state create riserve per i giovani imprenditori già operanti nel settore ma anche per titolari di aziende agricole già consolidate e che intendono sviluppare ulteriormente il comparto è stato quindi pubblicato sul sito dell'assessorato regionale all'agricoltura il bando OCM Vino per 27 milioni di euro riguardante proprio la ristrutturazione e riconversione dei vigneti sempre nell'OCM Vino nella misura investimenti sarà pubblicato entro la fine dell'anno un ulteriore bando che assegna 11 milioni di euro al settore un bando che consentirà la presentazione di progetti annuali volte all'ammodernamento e alla crescita tecnologica delle cantine esistenti oltre che a favorire ovviamente la commercializzazione del prodotto riscossone Sicilia la società che gestisce la raccolta dei tributi nell'isola rischia il fallimento con un emendamento infatti del Movimento 5 Stelle Lars Cassato ieri una norma del DDL sulle variazioni di bilancio che assegnava 2 milioni e mezzo di euro per ricapitalizzare appunto la società l'emendamento è passato col voto segreto 36 favorevoli 33 contrari dura la reazione del governatore Crocetta atto gravissimo ha detto il Presidente società che sarà costretta in questo modo a portare i libri in tribunale col nuovo anno a proposito di istituti di credito in crisi arrivano nuove norme da parte dell'Unione Europea ad esempio occorre intanto fare attenzione ai conti oltre i 100 mila euro perché potrebbero essere a rischio con il 2016 entrano in vigore le norme dell'Unione Europea sul cosiddetto salvataggio interno in materia di conti bancari le nuove regole imporranno infatti di gestire le difficoltà utilizzando risorse private evitando così che il costo dei salvataggi grave sui contribuenti lo Stato quindi non potrà più intervenire nei fallimenti delle banche per cui saranno gli azionisti prima a pagare nel nuovo scenario il risparmiatore o il correntista dovrà essere quindi più attento e informato e venire incontro c'è un vademecum pubblicato dall'ABI sindacato a banche in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori in pratica viene spiegato dove investire per non avere poi brutte sorprese tra le indicazioni più importanti di questo vademecum dell'ABI c'è intanto la garanzia di depositi fino a 100.000 euro questa protezione che può definirsi assoluta riguarda conti correnti librette di deposito e certificati di deposito coperti dal fondo di garanzia insieme ai depositi fino a 100.000 euro non saranno toccate le obbligazioni emesse dalla banca ma questa volta coperte da garanzia ad esempio i cosiddetti covered bond che rientrano nelle obbligazioni senior vengono garantite anche le cassette di sicurezza o i titoli detenuti al deposito in questo caso si tratta di beni di proprietà del risparmiatore e la banca fa solo da custode a Ragusa nei giorni del 3 e 6 gennaio 2016 in occasione dello svolgimento del presepe vivente verrà garantito un servizio straordinario di bus navetta da largo San Paolo fino a Ragusa centro l'amministrazione comunale infatti alla luce della grande affluenza di visitatori e forestieri che si è registrato in questi giorni ha richiesto il servizio all'AST il governo ha dato il via libera al nuovo concorso per circa 63.000 docenti a fine gennaio verranno pubblicati i bandi ed è probabile l'abolizione della prova selettiva arriva il regalo di fine anno anche per i docenti italiani il governo ha infatti autorizzato con primo decreto il concorso per l'assunzione di circa 63.000 insegnanti abilitati per il triennio 2016-18 si tratta e spiegano dall'assessorato all'istruzione di un concorso spartiacco nel senso che stabilisce in maniera netta che si diventa insegnanti solo attraverso questa via di accesso mettendo quindi fine a liste e listarelle in cui il personale qualificato è rimasto a stagnare per decenni dall'altra parte immette nelle scuole docenti giovani aggiornati e dei quali verranno verificate oltre alle conoscenze nozionistiche anche le competenze professionali nei prossimi giorni quindi il ministro Giannini firmerà il decreto sulle prove altro passo che porterà verso l'emanazione dei bandi che saranno tre uno per infanzia primaria uno per la seconda di primo e secondo grado e il terzo per il sostegno è molto probabile anche che salti la prova selettiva anche per gli aspiranti maestri insegnanti di scuola primaria e questo per evitare discriminazioni con i professori delle scuole secondarie di primo e secondo grado ci sarà quindi una prova di tipo nazionale volta ad accertare le capacità logiche di comprensione del test e delle competenze digitali oltre a quelle sulla lingua inglese non mancano però le voci contrastanti c'è infatti che vorrebbe capire il perché di 5.000 posti per il sostegno quando è risaputo che coprono soltanto il 30% del fabbisogno dei disabili adesso gli eventi appuntamenti natalizi nel territorio intanto gran concerto di Capodanno a Ragusa ore 18 presso il teatro tenda con l'Eurosinfoni Orchestra diretta dal maestro Umberto Terranova che eseguirà un ricco repertorio di brani lirici e sinfonici ingresso 10 euro poi due appuntamenti per il 2 gennaio rispettivamente con i concerti presso la chiesa di Santa Maria dell'Itre e in piazza Gian Battista Odierna a Vittoria invece proseguono le iniziative legate a Natale in città organizzata la presenza EMAE in collaborazione col sindaco e associazioni confesercente e confecommercio col teatro degli eventi in piazza Italia Dopo il grosso successo conseguito al mini live di Deborah Iurati in piazza Italia e che ha richiamato visitatori forestieri da ogni angolo della Sicilia proseguono a Vittoria le iniziative inserite nel programma del Natale in città organizzato come è noto dalla presenza delle MAE in collaborazione col sindaco con Icosia confesercente confesercente e confcommercio teatro degli eventi rimane naturalmente piazza Italia nei pressi della scuola media Vittoria Colonna e vista la grande affluenza di pubblico oltre all'apprezzamento mostrato dei tanti visitatori la direzione MAE ha deciso di arricchire ulteriormente il programma per capodanno infatti oltre al già previsto concerto alla locanda di Cris sarà offerta al pubblico un momento di spettacolo e cabaret a cura di Carlo Caneba in cartellone resta poi per sabato 2 gennaio il concerto di area sud e per domenica 3 malarazza 100% terrone tutti gli spettacoli completamente gratuiti avranno inizio alle ore 21 inoltre la direzione MAE ricorda che sia nell'area di Pazietale che in Piazza del Popolo sono presenti i mercatini di Natale presenza questa per valorizzare ulteriormente la zona in Piazza del Popolo tra l'altro l'atmosfera natalizia è resa più confacente al periodo con la presenza da settimane della pista di pattinaggio su ghiaccio siamo nel riepilogo dei fatti in primo piano si chiama operazione Camerina Drags e ha portato all'arresto di 14 soggetti accusati di traffico di sostanze stupefacenti tra gli arrestati 7 italiani diversi che sta comunitari tunisini nel corso dell'operazione è sequestati in totale 4 kg di droga principalmente hashish e cocaina senza contare i 21 soggetti segnalati al prefetto per detenzione ad uso personale di droga e 25 denunciati a piede libero coltellate per un debito di appena 30 euro è accaduta a Vittoria dove padre e figlio rispettivamente di 45 e 22 anni sono stati feriti con un'arma da taglio individuate e denunciate il feritore l'uomo dopo l'aggressione era fuggito ma la polizia ha fatto scattare subito le ricerche all'inizio non semplici per il racconto confuso delle vittime pare che l'aggressore non fosse dell'avviso di dover saldare appunto un debito di 30 euro la guardia di finanza al comando provinciale sequestra oltre 40.000 articoli pericolosi tra giocattoli e materia elettrica per un valore complessivo di circa 55.000 euro i controlli proseguiranno in particolare le fiamme gialle sono intervenuti in un negozio di vittoria sequestrando oltre 37.000 confezioni di materia elettrica e 3.400 giocattoli privi del marchio C pesanti le sanzioni per l'esercente commerciale numeri in costante crescita per l'aeroporto di Comiso rispetto allo scorso anno lo scalo Casmeni ha registrato ben 43.000 passeggeri in più soddisfatti i vertici della società di gestione allo stesso tempo il 2016 potrebbe essere un anno decisivo dovrà essere infatti inserito nell'accordo di programma e servizio stato ENAV in modo da potersi finalmente liberare dei costi di assistenza al volo che pesano per 4 milioni e mezzo a Biennio Via Libera un nuovo concorso nella scuola per 63.000 docenti a fine generale a pubblicazione dei bandi che saranno 3 per grado scolastico probabile anche l'abolizione della prova selettiva si tratta di un concorso definito spartiacco nel senso che stabilisce in maniera definitiva che si diventa insegnanti solo attraverso questa via d'accesso e mettendo fine a liste e listerelle dove il personale è rimasto a stagnare per decenni DG termina qui grazie per l'attenzione appuntamento alle prossime edizioni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti